Le immagini di tre auto della polizia con i lampeggianti accesi attorno alle 8 del mattino vicino all'istituto Bordoni di Pavia hanno fatto rapidamente il giro dei social. Tanti ragazzi e anche i residenti si sono chiesti il motivo di uno spiegamento di forze del genere davanti a una scuola. Gli agenti in realtà non erano entrati al Bordoni ma al dormitorio San Carlo, la struttura di proprietà del comune che si trova lì di fianco. Il motivo lo ha chiarito proprio l'amministrazione comunale. Si è trattato di una verifica sullo stato delle procedure amministrative dei minori stranieri non accompagnati che alloggiano proprio al dormitorio, un'azione concordata tra prefettura, questura e comune in seguito agli ultimi episodi di cronaca avvenuti in città che hanno visto protagonisti alcuni di questi ragazzi. La prefettura nel corso dell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica aveva condiviso con il Mezzabarbo un piano per fronteggiare l'escalation di violenza delle ultime settimane che prevede più passaggi delle forze dell'ordine nelle vie del centro ma anche iniziative specifiche per l'inclusione sociale dei giovani. I controlli di venerdì mattina al dormitorio San Carlo sono dunque il primo passo di questo piano concordato tra le istituzioni. La stessa prefetta dei Carlini aveva annunciato anche un tavolo che vedrà coinvolti gli altri comuni della provincia, dedicato proprio al tema dei minori stranieri non accompagnati.